... Rieccoci qui su My Memory of Us per la seconda parte, ci eravamo fermati qui con i nostri due cari bambinetti e andiamo avanti qui c'è un militare ci darà qualche problema? eh si, non possiamo... non possiamo passare... ah, eh, così si vai perfetto mmm, c'hanno il visore? di là non posso andare, quindi devo andare di qua, assolutamente mmm, qui devo arrampicarmi, ok, ah tu resti giù? oh oh l'hanno vista cosa facciamo adesso? devo trovare un modo per aiutarla proviamo a scendere proviamo a scendere allora adesso di qua non posso andare qui c'è un carro armato qui c'è un carro armato non so, provo a vedere di qua prima ho un altro ricordo ricordo ho trovato, ok non devo farmi vedere dai soldati beh, non ho visto, ah, non potevo avere raggirato, non l'ho visto un errore da parte mia vai adesso resta fermo qui bambino quello di sinistra ah si è girato di nuovo devo fare la massima attenzione stiamo fermi adesso devo stare ancora qui perché lui si giro, ok potrò andare adesso? si questo qui invece? va lì al prossimo giro passo allora quello dorme posso andare lentamente dovrei riuscire a passare, no? si sopra o di qua? devo andare di qua ah, non ho la combinazione se non so la combinazione qual è? devo scoprirla prima qui c'è delle medaglie e altre medaglie sono convinto che la password siano appunto le medaglie quindi c'è il 7 il 6 e il 2 2 2 6 7 2 6 7 dai bisogna anche scoprire l'ordine però eh vediamo un po' proviamo quello 2 6 7 niente e 2 7 6 niente 2 no quindi facciamo allora 6 2 7 6 7 2 niente 7 2 6 si trova alla fine si trova non è che ci fossero così tante combinazioni quindi andiamo avanti vediamo un po' eccola lì lei ah ha fame prendiamo la torta il pasticcino quello che è si eh eccolo lì scappa no no ci hanno preso ti piacciono da non mi è non piacciono che ha 1 2 2 3 1 5 6 6 6 Mi scelta, lei era determinata di venire al mio rischio. Per salire, ovviamente. Questo mi fa male. ok qui dove passa vai scendere di qua non salta ah già la si vai adesso la altro pulsante rosso guarda colpito sto arrivando a salvarti ma qui mi vedono però non mi ha detto nulla pensavo che mi dicessero qualcosa eccolo la in prigione mhm devo studiarmela un po' si premo qui ah devo fare il numero quello lì non posso andarci sicuramente lì mi vedono fin là non ci arriva non lo colpisce lì il pulsante ah non mi dicono niente loro perfetto pensavo che quindi posso andare lì posso montare qui dentro ah la chiave serve ah c'è da lui la chiave di fuori nulla ok premendo ah 294 ok ce l'abbiamo qui dai la la combinazione non farlo più ok 294 7 per chiamare lassù ok 2 un momento sono quei vecchi telefoni allora 2 9 no mmm ho sbagliato tasto allora riproviamo 2 9 9 4 devo fregare la chiave adesso? no non è servita a niente non è così quindi non basta proviamo a mandare da quello là niente e se provassi a passare al bambino funziona anche da qui? sì funziona ecco cosa forse devo fare rumore ecco vediamo sì ecco ha funzionato qualcosa ho tenuto ecco posso parlare con lui vediamo un po' ah adesso se ne va fuori a fumare esatto devo fare il contrario 705 7 alla fine ci si arriva eh 0 5 voilà posso andare di là muoviti bambina vieni via fuori ok adesso con il bambino possiamo rubare visto che è un ladro possiamo afferrare la sua chiave voilà buona fumata andiamo possiamo andare sì lì ci sono i no muoviti no una presa ecco devo farli stare insieme mano nella mano ok ecco ecco no di nuovo sbagliato non l'ha afferrato Una volta Unica possibilità di fuga No abbiamo rovinato la foto ai novelli sporsi Unica! È così divertente Attraverte in camera In quel momento Perciò in quella foto di bambina Foto di bambina È stato il momento iniziale È stato il momento nostro È stato il momento Prima prima che tutto cambiò Sireni stavano E i avviati I avviati L'armia di robot Si è arrivato E la bomba si è iniziata Chi sa che la guerra Può cominciare così rapidamente E così orribile È scoppiata la guerra Ah vai a casa Ok andiamo anche verso casa No siamo ancora ricercati O se ne fregano di noi adesso No ci ignorano Forse conviene correre Ma non lo so Ma non lo so Ah io Che che mu- ah! Ho capito Dovevo andare piano Ah ha pure lì Pure le pietre Ah ha pure lì Pure le pietre Benissimo Niente Non devo neanche stare lì fermo Quindi devo Bisogna correre In pratica Corriamo con lei Poi Corri Non troppo veloce però Non troppo veloce però Neanche così Cambio 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 Muoviti Muoviti Sali 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 Ah no scendi Va Andava giù l'elevatore No su Più Ce l'abbiamo qua Mmm Parato dopo questo Beh però siamo ancora vivi Non vedo la bambina Non c'è? Eh dov'è? Non è qui Premi lb ripetutamente per accendere la luce Eccola lì Qui c'è un ingranaggio rosso Sarà da attaccare la Vediamo? Sì Ok premiamo Ah si spegne dopo un po' Devo stare attento C'è caduta una bomba lì No Devo usare lei mi sa Lo continuano a premere il tasto purtroppo Ok Ah non può andare nel Troppo buio Ok Allora Con lei dovrò sicuramente Colpire qua su Voilà Allora Passare di là Passare di là Facciamo il cambio Scendiamo un po' di luce E da qui dovrò E da qui dovrò Colpire Voilà Cioè o meglio chiudere la bomba Non dovrebbe essere più pericolosa eh Ah lì c'è un ricordo Non l'avevo visto Andiamolo già che siamo qui Ok dobbiamo scendere giù Andiamo Qui si può scendere Lì c'è un'altra bomba Però è dall'altro lato Il pulsante Chi è che deve andare giù? È lei? Sì Sì perché il pulsante È impossibile arrivare Fin là Fuori portata Ah abbiamo acceso delle luci Abbiamo acceso delle luci però Dovrebbe avere una qualche utilità Però non so cosa Però se passo lì mi prende Di qui non la posso colpire Cosa devo fare quindi? Camminando mi colpirà sicuramente Mi prende? Ah infatti lo immaginavo Volevo provare però Niente Niente Non è così Allora Sì adesso ho capito cosa devo fare Ho capito ho capito Allora gli spariamo qui Il sassolino Ok lì si accende una luce Adesso metto praticamente lui qui Devo acceccare Sta bomba Come si accecava? Non mi ricordo più Non va Non va l'accecamento Dovrebbe accecarlo no? Ecco Adesso che ha accecato non mi può vedere Quindi con lei posso passare E colpirlo Esatto Voilà Oddio Ah Ah un altro piccolo enigma insomma Questo è giusto Bisogna andare Niente allora Sì un po' di memoria in pratica Questo è il primo Questo è il secondo Il terzo Niente Eh lo so ci vogliono un po' di tentativi Per capire Funzione Ok Andato Voilà L'abbiamo aperta Ma qui bisogna essere in due Uno di qua Uno di là Questo è un rifugio anti atomico Il bunker non era l'ideal Per celebrare il suo birthday Ma abbiamo fatto il miglior Ho cercato di mantenere le spiriti Tutto sarebbe bene Bene L'abbiamo 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 Scusate 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 Ci sarà la città Devastata Dalle bombe Andiamo a vedere E si vuole tornare a casa dal nonno Ma mi sa che non ci sarà più lui eh Allora lì c'è Eh tutto distrutto infatti Lì c'è Un altro ricordo Prendiamolo Prendiamolo Beh tutto devastato Come sale lei? Ah con la scaletta Sì Eh Non la puoi tirare su? No non la puoi tirare su da qui Ma lì c'è Ah eh Potevi scendere infatti Allora Praticamente bisogna prendere la scaletta E portarla da Dalla bambina Nulla di così complicato Sali Voilà Adesso può salire Ah ok Non avevo schiacciato B Vediamo che tu corri Sei più veloce Delle parti in cui bisogna salire o scendere devono fare da soli Oh ci sono lì Le guardie Ci diranno qualcosa? No ci ignorano Perfetto Questa cosa qui? Oh non fa nulla Cosa vuole? Cosa vuoi? Ah sete? Bisogna trovare qualcosa per riempirli l'acqua Di qua Ah di qua ci dice non potete passare ok Quindi andiamo di sotto Bisogna portarli al soldato un po' d'acqua Ma per ora questo ci ignora non ci dice nulla Ok Non gliene frega nulla di noi Ok Niente da no Ah No Non vuole che tocchiamo Ma Ah Sopra o sotto Ah ho capito Allora Allora Proviamo a colpire Con la bambina sta a fare Ok Sì 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 E il bambino lo ruba ok Allora Restiamo col bambino qui Con la bambina No Vabbè non serve andare di là Vabbè non serve andare di là Non c'è più Te l'ho fregato Eh Saranno stati i fantasmi Adesso con il calice Con sta coppa possiamo Dargli da bere Sì però Mi sa che lui deve stare qui Ok Ok Acqua fresca per il soldato Assettato Ci darà qualcosa immagino O succederà qualcosa La stai levando praticamente Ah possiamo andare? Qui dentro? No avanti Mi sa che i soldati robot hanno vinto la guerra eh O meglio hanno invaso la città L'invasione delle macchine E' uno scenario un po' apocalittico E' uno scenario un po' apocalittico Eh sì hanno conquistato la città Eh sì hanno conquistato la città Noi siamo solo dei poveri bambini civili inermi Ah questa cosa qui cos'è? Bisogna salirci sopra Eh penderà da una parte e dall'altra L'hanno presa la bambina L'hanno presa la bambina Ah lui si è addormentato però ok Di qua? Magari c'è qualcosa qui Ah posso Ah posso alzarmi e andar di là ok Qui Ok siamo siamo dentro Adesso cosa devo fare? E' in pericolo? Ah devo ok alimentare Adesso andiamo di qua allora Allora schiacciare queste cose E' alimentare queste Questo fluido rosso che vediamo Vediamo un po' Nulla di così complicato Allora L'hanno rapita Ah C'è il vestito rosso adesso Pfff 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 non c'entra nulla questo cosa devo agganciare quindi acqui ecco devo aprirlo se ok aperto torniamo la non mi fa più tornare indietro ecco non potevo scegliere devo mettermi pari ho capito voilà ma l'ho aperto questo dobbiamo fare adesso devo mica scendere non lo so neanche io questo non si sveglia neanche con le cannonate devo fare qualcosa però non so esattamente cosa ho già esaminato tutto qui no a meno che non l'abbia aperto completamente devo aprirlo ancora ho sbagliato forse forse non l'ho aperto completamente voglio vedere ancora un attimo l'ho intuito poi l'ho intuito poi l'avevo intuito l'ho intuito è stato un attimo dove sono questi pensi? Sì, sono in giro. Mi guardo a mio amico, e lei non era più diverso da la ragazza che aveva sempre stato. Ma lei era bella. Abbiamo bisogno di tornare a lei, che era solo. Praticamente, quelli vestiti di rosso sono discriminati in questo nuovo mondo, diciamo, creato dai robot. Va bene, questa era la seconda parte di My Memory of Us. Spero che vi sia piaciuta, e noi ci rivedremo per la prossima prossimamente. Continueremo da qui, cercheremo di tornare dal nonno della bambina. Vi saluto alla prossima. Ciao ciao!